Una vicentina di 54 anni è stata condannata dal Tribunale di Padova a un anno e un mese di reclusione con pena sospesa per appropriazione in debita. Secondo l'accusa nel 2013 si era appropriata di circa 28 mila euro di proprietà di una signora di 95 anni che nel frattempo è deceduta e della quale la 54enne era amministratrice di sostegno. I soldi sarebbero stati prelevati da due conti correnti attraverso varie forme dagli sportelli Bancomat ad assegni e ricariche telefoniche. Grazie per la visione!